Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo minuissimo video di SonnySanto, quanto prossimo oggi vi farò vedere come ottenere bombe infinite Innanzitutto dovete controllare che versione di gioco avete Potete farlo premendo il pulsante più sopra il vostro gioco e come vedete vi verrà fuori scritto che versione di gioco avete Questo glitch funziona in tutte le versioni inclusa l'ultima al momento in cui io sto registrando questo video Cioè la 1.2.1 ma state tranquilli nel caso in cui Nintendo rilascia un aggiornamento vi farò sapere se funziona ancora oppure no Cosa ci serve? Allora innanzitutto dobbiamo essere in questo punto ragazzi Guardate bene dove sono io, sono vicino al saccaro di Natakuan Poi in caso potete anche segnarvi le coordinate funzioneranno allo stesso modo Allora poi quello che ci serve è o la maschera di Majora's Mask o la maschera del Boblin È la stessa cosa Poi dobbiamo avere almeno un arco e alcune frecce Poi dobbiamo avere almeno un paletto e un vettore automatico Poi quello che dobbiamo fare se abbiamo i saggi sbloccati li dobbiamo congedare, disattivare Mi raccomando questo è importante Allora se noi guardiamo in questo punto vedete che laggiù ci sono dei Boblin sopra un Sassorok Ecco noi il nostro obiettivo è molto semplice Dobbiamo ucciderli quasi tutti Cioè nel senso dobbiamo lasciare solamente uno Quello che nel suo cesto ha le bombe Ok Però prima di precipitarci direi di salvare Salvare manualmente Così se tante volte sbagliamo qualcosa possiamo riprendere da questo punto Ok Ecco qua ovviamente il nostro primo obiettivo è di sconfiggere il Sassorok Ma poi dobbiamo sconfiggere quasi tutti i Boblin Cioè dobbiamo lasciare solamente uno Quello che ha le bombe nel suo cesto Ecco qua Vedete che mi è rimasto solamente lui che ha le bombe Se tante volte avete sbagliato qualcosa Basterà ricaricare il salvataggio che vi ho fatto fare due secondi fa Se invece siete riusciti come nel mio caso Quello che dobbiamo fare è semplice Innanzitutto ci equipaggiamo la maschera del Boblin Oppure la maschera di Majora's Mask Tanto è la stessa cosa Poi dobbiamo semplicemente salvare E ricaricare il salvataggio Ecco qua Come vedete quello che succede è che lui si dimenticherà di quello che è successo E non ci attaccherà più Perfetto Ora andiamo per di qua Poi tiriamo fuori un paletto e un vettore automatico Poi li sistemiamo per bene con l'ultramano Ecco fissiamo il paletto per terra Poi mi raccomando il vettore automatico mettetelo sotto sopra Ecco in questo modo E poi lo incollate Ecco fatto E ora la nostra struttura è pronta Allontaniamoci leggermente E d'ora in poi cercate di tenere Per quanto riuscite La destra rispetto al Boblin Ok Poi attiviamo la struttura Ecco qua Lui magari ecco a volte si comincia Cioè si metterà a lanciare i sassi Però ignoratelo non è importante Ecco qua E semplicemente noi li prendiamo le bombe ragazzi Cercate di prendere le bombe Dalle mani del Boblin Quando lui le prende su Evitate di prenderle direttamente dal cesto Perché ovviamente il cesto ne ha poche Se invece gliele prendete dalle sue stesse mani Ne potete prendere fino all'infinito Come vedete io ne ho 401 di bombe E ora vedrete a quanto arrivo Tra un po' E ora che l'ho fatto per un pochetto Ne ho 431 E voi potete stare qui anche all'infinito Ovviamente non è che serve per essere precisi Come vedete se ve ne sfugge qualcuna Non è un problema Comunque potete continuare a prenderle Tranquillamente Vedete Non succede nulla di particolare Un'altra cosa La batteria Come vedete Non è che questo Questa struttura Non è che consuma particolarmente batteria Ma se vi state chiedendo cosa succede Nel caso in cui abbiate poca batteria Beh non succede nulla Ora lo spengo di proposito Semplicemente il bobblin Smetterà di attaccarlo E nulla Vedete Più che altro tornate lui al Tornate voi al centro della sua attenzione Semplicemente Ma poi vi basterà riaccenderlo E poi ricomincerà tutta la pacchia Ops Ero troppo lontano Vedete Qui non vi dovete stare a preoccupare Neanche della batteria 460 bombe Bene ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto E o vi sia stato utile In quel caso fatemelo sapere Con un like Un'iscrizione Un commento Ma noi ci vediamo presto con un nuovo video Quindi ciao ragazzi